Non vedo l'ora che arrivi il 4 dicembre, non vedo l'ora che gli italiani votino, come per la Brexit e come per Trump spazzino via quello che ormai è passato, è vecchio, sono i poteri forti, sono le incrostazioni, sono il mondo delle banche fallite, quindi sono contento che vengano respinti i ricorsi sulla forma perché vado alla sostanza.